rieccoci qui rossi e rosse qui sempre Chris Lirett e restiamo sul secondo capitolo di Kane e Lynch 2 e sempre con me aiutarci c'è il buon RoboZombie94 e direi sempre di incominciare questa cagata di ottimizzazione che è ottimizzato come avete visto con i piedoni con i piedi caricamenti sempre eterni ricordiamo GTA 5 Doge ma hanno ripreso da questi anzi che GTA 5 ultimamente ha cominciato a stringere un po' i tempi dei caricamenti una volta mi parevano tipo 5 minuti abbondanti adesso se ne prende se no un minuto e qualcosa nel tuo caso che è un pc ultra performante si prenderà ma neanche un minuto spero io quando ci giocavo gli anni c'era io alla barba mamma mia da motivo mi rompevo solo per quello aspettare i caricamenti ricordo anche Zeb ci aveva fatto un video e ci aveva tum 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 quando o te si disconnetteva qualcuno o cosa stavi a caricamento era la fine quando facevi il colpo aspettare le ore ancora gente di 50.000 giocatori attivi proprio ecco qualche dettaglio di più sarai pagato quando il carico riderà in Africa problemi l'Africa nessun problema siamo pappa e ciccia pappa e ciccia ecco e cosa mi dici di Shanghai che è una merda fa schifo ecco sì anch'io l'adoro hai un taglio di capelli e una scopata costano 50 yuan è fantastico vi porterò a fare un giro questa città è perfetta per gente come qui davvero ecco e calla e neanche un po' da subito l'ha detto pixel i piedri pixelosi ok proprio così in mezzo alla strada no non ci vedo questo vabbè ma stanno solo loro ma la distingue tutti uguali ahahah 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 forza portami a Glecce ti copriamo noi va bene vai forza e con la pistola se li trovano io sto qua col fucile a pompa va bene ma sta limusina è andata leggermente avanti ma non c'è tempo di pulire forza stanno attaccando la limusina eh lo so lo so lo sappiamo lo sappiamo da questo con la trippa di fuori eh cambiarma la limusina mi stavo per prendere in pieno ma chi è che guida eh quel pirla di artista mi hanno accoppato come ti hanno accoppato ci praniede velocemente cosa fai vince morto benissimo benissimo ecco qualche dettaglio in più non si può saltare vero hai pagato quando il carico arriverà in Africa no pare di no ma ok premendo in via si buono ok abbiamo visto i cinesi non scherzano o giapponese no questi sono cina 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 col furgone eh questi qua con la cina col furgone guarda come siamo fatti su dici madonna ce l'hanno cosata la dinosina eh questi maledetti no coppare mi sa che esploda la macchinetta sto fra farà non voglio però sparano alla macchina non ci si fregano e non solo non solo possiamo permetterlo siamo fottuti no vada là giù ma tra l'altro sempre lo stesso modello usano tutti uguali i sottici vabbè ma se sto stupidino aspetta magari no guarda vabbè ma te credo la limousine vabbè i giochi del di sette anni fa toccava proprio avanzato e brutto ci senti ok comunque i colpi in testa in teoria funzionano non so perché ma ma tipo censurato qualcuno appena io ho sparato mi sa che l'ho decapitato si forse forse ma se non si fanno male oh mi sparo io all'auto gioca come io questi cinesi sono proprio come nei porno se gli fai qualche danno diventano pixelosi anche loro allora nella loro natura non è un effetto vive non davanti qua che se no lasci fuori mettiti il testolino un po' là non ho qua fianco che atrota pura me eh fatti una eh come si telecamera è di merda pure le vorrei aggiungi lasci se le dire vabbè ma quello andò a quale parti senza le nuove forse romante del rischio io me lo andrei insieme a lui venga occhio attento ci vediamo più oltre ma che cacchio ma che cacchio so scemi io io sono un po' 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 questi c'hanno stanno a petto nudo sembra tutt'altro che petto nudo hanno un proprio il corpetto fai uscire ma come cacchio no ok lo faccio io venga venga fuori che l'ho fatto uscire l'autista possiamo lasciare quello lì dentro vieni a salvare la vengo ah non ce l'ho più ecco come cacchio ed è morto è andata un colpo in testa ed è almeno stanto l'ho riconosciuto dall'inizio bene o male aia vabbè ma il mitra è inutile madonna ma il mitra che c'è qua la mia arma bravo eccolo per questo sto gioco il filo a pompa è un p è un p andata che prende quello e io guarda che casino stanno a combinar sti cinesi cagare ma guarda la mafia oltre la mafia qui no la città non ci sta là con noi l'hanno con noi eh fucile però adesso è poco utile c'è pure la polizia adesso con noi pure la pula contro di noi eh già ma è non ci voglia ah ci abbiamo un codino qua l'autista e guarda che mi sa che i poliziotti c'hanno anche il fucile a pompa vorrei di cavolate il poliziotto qua vicino qua coppato ce l'aveva per il poliziotto ma se lo so comprati pure loro localizzarmi come localizzarmi c'hai la pedana dici niente ah è perché io ti dico il polizio andai con la revolver piccolina forza dobbiamo portare glasera in garage sto arrivando queste sirene ah sono andate dall'altra parte proprio scendete sotto abbiamo una bici va cagale che cazzo è successo non lo so porta apri quella cazzo di porta sta per venirmi un infarto e così lo velocezio ma avrà la porta e l'ammazzo ah no ci sperà che è successo là fuori cerca di mantenere la calma io ho appena rischiato di finire ammazzato non tu è una fottuta guerra ma perché noi non sparavamo eh ci serve un piano già riuscite io avanti bene ci serve un passaggio merda non ci credo lo so ci sono tante macchine qui chiamata rapid 2 con gli istintori un istintore in mano dall'incendio mi sale vieni qui e basta qua sicuramente sarà pieno prelievo in arrivo prelievo eh oh no madosca glielo tiro io glielo tiro un cagnolino che vieni merda billy lo sparo io ma hanno accoppato billy qua vicino a me tranquilli non ce la faccio dobbiamo avanzare orca trota dei cani dobbiamo arrivare all'uscita antincendio come è c'è il fondo lo vedi sì venite fuori buono l'hai lanciato te quel coso sì altro billy no billy no lo hai giottato billy no c'era mirko ti denunciava ti reportava ti reportava letteralmente almeno stavolta il tizio non va a farti appazzare oh quattro fucilate è ancora in piedi sta aderenti io mi scordo sempre ok ti do uno con la voce di batman addirittura eh sì il doppiatore è quello confondibile sei rovinato così tanto a quanto pare no ma poi batman l'ha fatto dopo mi sa perché erano il 9 dei 10 il batman oh si è messo per terra ma te la do io te la do la mafia la mafia puliziotta comunque la telecamera fa veramente schifo di copertura pure mamma mia non riesco a puntare le macchine servono quasi niente aia aia ho tirato un estintore però non ce l'ho fatta a sparare ok ok andrà tutto bene gli estintori sono come le granate su sto gioco mamma mia veramente tocca aprire la sara cinesca oppa questo c'ha un colpo in testa non sei un accorto io voglio sapere chi è questo singe attraverso sono sotto droga a tutto il gioco ma si praticamente guarda come si muove comandato suonano le porte abbiamo scoperto che una serve ecco la forza del potere ma sai qua moriamo se caschiamo direi non è in modo in piano direi ma che difficoltà sono dall'altra parte di quell'edificio la droga la droga la droga ma sti polizzi stanno dappertutto oggi o gli sbirri o gli sbirri e questo non era non era un dubbio la battuglia ah ma ma coppano ma pura me probabilmente eh no perché non c'è risco niente con la telecamera ecco come ci arriviamo là per me è troppo vicino orca miseria cannaie infatti se cerchi a entrare in modalità mira praticamente il personaggio te ruba mezzo schermo si è inutile devi giocarlo con 40 pollici eccola sei cascato mo ma io mi rialzo sempre cagare aia ho soltato a posto il cavolo mi ho parlato solo puro il personaggio la droga eh si questo gioco era po' ordinoso immaginiamoci il primo mamma mia eppure l'abbiamo giocato cioè ti ho visto giocare che me lo ricordo quando lo giocavamo a casa tua si si niente lo giocavi però con il Mirko si alla xbox vabbè adesso basta eh partita in modalità invaggimento modalità con bando beh chiamoli mi stai giù infatti per ora solo l'arma c'erano questi poliziotti detecente sto mitra molto dubbioso di dubbia qualità probabilmente loro ci shottano ma noi dobbiamo spregare mezzo caricatore per loro esatto vabbè che difficoltà difficili il nostro passaggio non ci arriverà mai non ci arriverà mai non ci arriverà mai ma il fuoco a un nemico eh amico non c'è vero non credo oh questo è sceso fuori il cino è sceso fuori il cocco adesso veramente eh fai salire il glazer sul furgone porca paletta il passaggio è qui passaggio è qui erano un po' pronti facciamo largo al furgone facciamo largo facciamo largo al furgone facciamo largo al furgone facciamo manovra Alessandro guarda quanti eh veramente basta uno fucile a pompa rubate pula eh ma questo ormai oh si sale io ero dall'altra parte della mappa però mi è salito anche a me questo non ci voleva no no stanno tanto tu allora no sta fermo eh eh che adesso è partito questo è il territorio di Sina va bene è chiaro sentite voi andate a parlare con Sina dovete capire che succede ma fate molta attenzione niente casino ok ah finisce proprio così capitolo capitolo concluso vi direi il secondo non so come è fatto si ha capito e vedo dei militari e calla ma abbiamo avuto dei problemi si vede anche il mio personaggio lì dietro va bene ci vediamo al ristorante si 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 ci ci sarò lo prometto